Oggi facciamo il trucco a bimbi naturale fatto in casa Con dei coloranti alimentari Abbiamo preso la verzaviola, la curcuma, un po' di salsa di pomodoro L'amido di riso, una crema idratante all'ossido di zinco e burro di karité Va bene quella che abbiamo in casa per il cambio dei bambini Un cucchiaio e un cucchiaino, una tazza in cui mischiare il tutto Che ha pochissima acqua, poi un pennello e una bilancia Adesso facciamo un po' di composti e vediamo l'effetto del trucco a bimbi fatto in casa La ricetta originale è fatta con 27 g di burro di karité, 43 g di ossido di zinco e 22 g d'acqua Noi al posto dei due ingredienti separati abbiamo preso la crema idratante Quella che si usa come cambio per i bambini E poi abbiamo aggiunto abbastanza amido di riso perché addensa moltissimo E ne abbiamo messi circa due cucchiai, ma ci si può regolare ad occhio Ed è venuta questa consistenza qui per la base Per fare una base ancora più densa basta prendere un cucchiaio di crema idratante Mezzo cucchiaio di amido di mais o maizena e un cucchiaio d'acqua Questo è uno dei nostri disegni di oggi Forse non ci siamo colorati solo il viso ma ovunque E ci siamo divertiti, buon divertimento anche a voi Grazie a tutti